Mezzanotte 59, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale, oggi giornata importante sul fronte diplomatico per la guerra in Ucraina. Putin ha incontrato a Mosca il segretario generale dell'ONU Guterres, è venuto a chiedere un cessate il fuoco. Il presidente russo dice di essere disponibile al negoziato ma senza il controllo di Crimea e Donbass, nessuna intesa è possibile, ha detto Putin. E poi 40 paesi al vertice straordinario di Reimstein in Germania, fortemente voluto dagli Stati Uniti per rafforzare il sossegno politico e militare a Zelensky, svolta politica della Germania che invierà carri armati antiaerei a Kiev. Infine il Papa che stasera ha detto l'umanità non riesce a pensare con schemi e progetti di pace. Il nostro servizio. Senza Crimea e Donbass l'accordo è impossibile, Vladimir Putin gela il segretario generale dell'ONU Guterres ricevuto al Cremline e atteso giovedì a Kiev. Siamo stati obbligati a intervenire in Ucraina per garantire al Donbass protezione e indipendenza da Kiev, ha spiegato Putin, che ha ribadito che a buce è stato organizzato una messa in scena. Un mezzo passo avanti forse si registra sull'Azovstal di Mariupol. La Russia infatti avrebbe accettato la collaborazione dell'ONU e della Croce Rossa per evacuare i civili intrappolati. Civili che, ha spiegato però Putin, sono tenuti in ostaggio dai militari ucraini. Nessuna apertura, insomma, anzi oggi c'è stato un ulteriore escalation della tensione. Il motivo è il botte risposta tra Londra e Mosca. Per il governo britannico è legittimo che gli ucraini possano usare armi occidentali per colpire obiettivi in Russia. Allora è legittimo un diritto di rappresaglia contro le linee di rifornimento ucraine nei paesi della Nato, la durissima replica condita dalle parole di Lavrov che ha evocato una possibile terza guerra mondiale. La Russia inoltre ha annunciato che da domattina sono sospese le forniture di gas a Polonia e Bulgaria che si sono rifiutate di pagare i rubli. Il tutto nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno convocato nella loro base militare di Rammstein in Germania i ministri della difesa ai vertici militari di oltre 40 paesi con l'obiettivo di incrementare le forniture militari a Kiev. Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha ribadito la strategia degli Stati Uniti, fiaccare e logorare la Russia a tal punto da renderle impossibile attaccare altri paesi. Servono quindi più armi e una risposta positiva è arrivata dalla Germania che abbandonando la prudenza mostrata finora ha annunciato l'invio a Kiev di 50 carri armati specializzati nella difesa antiaerea. Berlino si è detta disponibile anche ad addestrare gli artiglieri ucraini. È ferito e ricoverato in ospedale Ivan Luca Vavasori, il 29enne italiano di origini russe che circa un mese fa si era ruolato per combattere con gli ucraini. Da qualche giorno di lui non si sapeva più nulla dopo la notizia che il suo convoglio era stato colpito dall'artiglieria russa nei dintorni di Mariupol. Oggi con un messaggio sui social è stato lui stesso a rassicurare sulle sue condizioni sono vivo o solo febbre molto alta. Alcune ferite in varie parti del corpo, per fortuna nulla di rotto, ha scritto. Sulla vicenda la procura di Milano ha aperto un'inchiesta conoscitiva. La politica interna adesso, il Movimento 5 Stelle riapre il dibattito sull'invio di nostre armi all'Ucraina. Il leader Conte annuncia di aver chiesto al Premier Draghi e al Ministro della Difesa Guerini di riferire subito alle Camere perché i 5 Stelle sono contrari a fornire a Kiev aiuti che esulino dal legittimo esercizio del diritto alla difesa. Per il Ministro della Difesa ci stiamo attenendo al mandato parlamentare. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte riapre il caso dell'invio di armi all'Ucraina impegnata a resistere all'invasione russa. L'ex Premier ribadisce ciò che aveva più volte sostenuto negli ultimi giorni e precisa il Movimento si oppone all'invio di aiuti militari a controffensive che è ossurinato al perimetro del legittimo esercizio del diritto di difesa di cui è l'articolo 51 della Carta dei diritti dell'uomo. E qualche ora dopo precisa bisogna aiutare la popolazione ucraina a difendersi, non dobbiamo lavorare ad uno scenario da Terza Guerra Mondiale. Inoltre l'ex Premier ha anche chiesto a Draghi e al Ministro Guerini di riferire in Parlamento. Parole che sono destinate a far aumentare la tensione nella maggioranza e soprattutto tra Movimento e Partito Democratico, anche perché proprio sul punto specifico dell'invio di armi all'Ucraina il segretario Demerico Letta la pensa diversamente in sintonia con quanto detto dal Presidente della Repubblica il 25 aprile. Ad agitare le acque dei 5 Stelle inoltre c'è ancora il caso Petrocelli, il Presidente della Commissione Esteri del Senato, Filorusso, che per l'anniversario del 25 aprile aveva postato un tweet nel quale la lettera Z della parola liberazione in maiuscolo richiamava l'immagine che i russi hanno stampato sui loro carri armati. Petrocelli aveva anche votato contro la risoluzione pro-Ucraina e Conte che ha già annunciato che l'espulsione di Petrocelli è pronta, ora spiega, c'è una riunione dell'Assemblea del gruppo al Senato per una modifica del regolamento che consentirà anche l'espulsione dei 5 Stelle del senatore Petrocelli. Ma la questione più complessa è quella della Presidenza della Commissione, perché se Petrocelli non decide di dimettersi è quasi impossibile disarcionarlo, a meno che la Commissione non si autosciolga con le dimissioni in massa dei componenti. La cronaca adesso, i magistrati hanno chiesto il rinvio a giudizio di 107 tra poliziotti della penitenziaria, funzionari e agenti dell'amministrazione per il pestaggio di 177 detenuti avvenuto due anni fa nel carcere di Santa Maria Capoavetere. Dopo le proteste per la positività di un loro compagno, gravissimi i reati contestati, per 41 indagati la tortura e poi a vario titolo lesioni gravi falso e depistaggio. La Procura contesta anche l'omicidio colposo a 12 indagati per la morte di un detenuto algerino che dopo il pestaggio venne chiuso in cella di isolamento senza ricevere le cure adeguate. Morì il 4 di maggio. Si è spenta quasi 100 anni a Roma, assunta almirante, la vedova di Giorgio, leader del movimento sociale italiano. Dopo la scomparsa del marito nel 1988, donna assunta, come veniva chiamata, era diventata una figura di riferimento della destra italiana. Bocciò la cosiddetta svolta di Fiugi di Gianfranco Fini nel 1995 con la quale si compì il passaggio da MSI destra nazionale ad alleanza nazionale. Se ne va un pilastro della memoria storica della destra italiana, la ricorda oggi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Chiudiamo con il calcio, grande spettacolo nella prima semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Partita memorabile di rara bellezza quella andata in scena all'Ethiad Stadium. Sette gol e una miriade di altre occasioni per un tabellino infinito. Questo primo round lo ha vinto il City, cui va però il demerito di non aver messo margine di sicurezza nella prima mezz'ora di dominio totale. Dopo il doppio vantaggio maturato nello spazio di soli dieci minuti, grazie al tuffo di testa con cui De Bruyne ha arpionato il preciso cross di Mares, cui ha fatto seguito il raddoppio di Gabriel e Jesus favorito dall'errore di Alamo. Ma qui sono entrati in scena gli errori a ripetizione dei giocatori del City, che hanno fatto disperare Pep Guardiola, forse presago di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Il Real di Ancelotti ha infatti trovato col suo totem Karim Benzema il gol del 2-1 con cui si è andati a riposo. Ripresa iniziata con un Manchester ancora più arrembante e illusosi quando Foden al settimo ha insaccato di testa la parabola di Fernandinho, poiché dopo soli due minuti, la volata da centometrista del brasiliano Vinicius si è conclusa con il piatto vincente. In questo appassionante testa a testa gli inglesi hanno nuovamente allungato quando, con la difesa spagnola immobile, per un fallo non fischiato all'Ucraino Zinchenko per la norma del vantaggio, l'astuzia di Bernardo Silva ha regalato il più 2 al City, che ha avuto anche la palla per chiudere forse il discorso qualificazione quando all'ottantesimo Mares ha fallito il possibile 5-2, divenuto invece il definitivo 4-3 per l'ingenuo braccio in area di Laporte colto dall'arbitro Kovac. Rigore netto che ancora Benzema ha trasformato con un irridente cucchiaio avalso il 41esimo gol stagionale. Poi il finale insolito con l'invasione di un tifoso in erba, prima dell'abbraccio tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, che mercoledì si ritroveranno al Bernabeu per una sfida di ritorno vietata ai deboli di cuore. È tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.